Libero ha ribattezzato simpaticamente il protagonista della sparatoria di Capodanno come il pistola di Fratelli d'Italia. Nella sua conferenza stampa Giorgia Meloni ne prende abbastanza le distanze, dice vedremo quello che è successo ma chiunque ha un'arma ne è responsabile, se è successo un casino è il primo responsabile a cui guarda lui e quindi ha annunciato la sospensione del partito in attesa di sviluppi e ulteriori provvedimenti probabilmente anche più rigidi per usare le parole della Meloni stessa. D'altronde è quello che Libero aveva spiegato perché dice se tu non prendi le distanze dal pistola e allora rischi che la gente ti confonda con lui e giustamente sono state perdere le distanze. Poi è molto simpatico la soluzione proposta da Osho, ma perché adesso non accaniamoci più di tanto? Questo ama le armi, Zelensky ha bisogno di armi, ha bisogno di uomini, spediamoli in Ucraina a dare una mano, così noi diamo la prova in questo momento in cui l'Ucraina è molto in difficoltà di essere saldamente con loro e di essere il perno dell'alleanza occidentale contro la Russia e di Putin.